Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, siamo qui per fare ovviamente il recap della patch 21.50 Direi che possiamo subito iniziare, mi raccomando, like subito e iscrizione Mi raccomando con la campanellina per non perderti insomma le prossime novità Iniziamo con la prima, infatti torna croce via del Ciarpame Prima location OG che torna quindi dal capitolo 1, in questo insomma capitolo numero 3 Come possiamo vedere questa la location, in tanti sicuramente la conoscerete già E ritornerà probabilmente credo entro a finire questa stagione perché al momento credo che non ci sia ancora Prossima novità lo school, infatti avrà una nuova versione arcobaleno Credo che questa venga rilasciata verso comunque gli inizi di settembre Perché arriverà l'evento arcobaleno con anche ricompense gratis Poi questo deltaplano finalmente sembrerebbe che dopo tanto tempo possa arrivare Era stato già intravisto in un trailer vecchio di una vecchia collaborazione ma non era mai stato rilasciato Quindi molto probabilmente finalmente lo possiamo vedere Queste sono un po' di cosmetici, spray, insomma c'è un po' di tutto come possiamo vedere Nuovi cosmetici, nuove skin precisamente, vabbè quelle della collaborazione con Destiny abbiamo già avute Ma come possiamo vedere c'è una nuova skin di sequel Ragazzi sarà lo starter pack della prossima stagione a 3,99€ Poi abbiamo sotto due skin Veronica e Mazzi Che tra le altre cose Mazzi dovrebbe essere gratis secondo alcuni rumor Adesso andiamo anche a vedere meglio Nuovo bundle che ovviamente sarà acquistabile nello shop a costo minore Eccola qua ragazzi Questa skin dovrebbe in teoria secondo i vari rumor essere gratis Non so se comprende anche la copertura army e il piccone Ma sembrerebbe che comunque la skin la daranno gratis Probabilmente a 0 V-Bucks nel negozio oggetti Secondo i vari rumor Probabilmente credo allora anche questi altri cosmetici Ma non è detto Comunque la skin sembrerebbe essere quasi sicuro che la daranno gratis Nuove varianti per la skin eco che in teoria però dovrebbero essere acquistabili Con anche la skin vecchia Quindi se avete già la skin eco in teoria questi sono stili aggiuntivi che vi daranno Gratis ovviamente Purtroppo hanno aggiornato questo bundle Purtroppo perché ce l'ho io ed era veramente diventato parecchio raro Però purtroppo lo rimetteranno nello shop Con i V-Bucks, piccone ovviamente tutto incluso a 20€ Qua abbiamo un po' di coperture army Come ad esempio quell'arcobaleno E anche quella che abbiamo visto prima che potrebbero essere gratis Questa è una copertura army probabilmente nello shop Mentre queste sono tutte le nuove coperture army ragazzi Che metteranno come ricompensa per chi raggiunge le diverse leghe insomma Come è stato nella scorsa stagione Quindi queste sono le nuove ricompensare in poche parole Il nuovo bundle con addirittura 3 skin, 3 backpack, 3 piccone insomma di tutto In quel bundle c'è, nuovo deltaplano Queste invece sono delle ricompense che potremmo ottenere nella mappa creativa Quindi esattamente la copertura army che abbiamo visto prima Uno skateboard con una nuova versione come possiamo vedere E una schermatica di caricamento Tutte le ricompense gratis Potremmo tramite un evento creativo Come credo anche d'altronde Tutti questa marea di spray credo che li daranno in qualche modo gratis Abbiamo poi qualche backpack, picconi insomma con le nuove varianti della skin eco Insomma eccetera Nuovo pack della crew ecco di questo mese di settembre decrittato Come possiamo vedere che strabello Mappa giornata qua non vedo crocevia ragazzi del charpame come vi dicevo prima Quindi per il momento sembrerebbe che non ci sia Però dovrebbe insomma tornare Nuove emote molto molto carine E ragazzi queste grosso modo erano tutte diciamo le novità più grandi Adesso però vado un attimo a vedere se abbiamo altre novità Ok proprio le ultime due novità al volo E puoi dire che chiudiamo qua il video Perché grosso modo queste erano comunque gli aggiornamenti più importanti Comunque per quello che riguarda ragazzi l'evento finale Purtroppo non è ancora uscito nulla Quindi vi aggiornerò su quest'ultimo nei prossimi giorni Questo comunque ragazzi è il nuovo starter pack della stagione 4 Quindi non era alla fine la skin della DC Se erano sbagliati i leaker Sarà questo il nuovo starter pack della nuova stagione E questo sarà invece la lobby aggiornata per quello che riguarda l'evento arcobaleno Detto questo questi erano tutti gli aggiornamenti più importanti Vi farò sapere ripeto per quello che riguarda l'evento finale In un prossimo video perché al momento non sappiamo niente Detto questo ci salutiamo e ci vediamo o dopo se abbiamo tempo Oppure direttamente domani con un altro video news Bella